e con chi magari veramente si è predicato tantissimo a fine tutti o quelli che oggi siamo all'interno della Sala Stampa possiamo tranquillamente lavorare e raccontare il nostro festival di Sanremo. Un paio di cose, con Giorgio che mi ha guidato, papà spirituale per me, fratello della vita, insieme a Gino che vedo qui di fronte a me che finalmente il primo anno è arrivato qui a Sanremo, abbiamo creato un sito internet ufficiale che è premiosalastampaluciodalla.it, lì troverete tutte le comunicazioni come poter magari votare a proposito del voto adesso vi chiederò ai tabulati alla RAI in maniera tale che vi mandiamo la comunicazione e nell'email dove noi vi spediamo la scheda per votare il premiosalastampaluciodalla, da lì deve tornare diversamente il voto è nullo. Grazie. 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 Grazie.